buonasera signori intervista migliore in campo si vero del blu team napoli scuso scusa per le voci in sottofondo i rumori in sottofondo questi effetti sonori ma sono compresi nel senso del prezzo la squadra partita appena terminata contro il bocca junior due pari come è stata la partita partita abbiamo sudato questa volta è stata veramente una bella una partita dura come al solito ho visto dei movimenti spettacolari tu io ti voglio fare anche i complimenti essenzialmente un ottimo giocatore è una relazione tecnica fenomenale ho visto fai dei cambi di direzione alla luce no no veramente velocissimo complimenti bocca junior avete giocato contro il bocca junior una squadra tosta fisica molto difficile organizzata e gioca bene manca qualche gol però un'ottima squadra senti ricordiamo anche il infortuno gli ultimi minuti di leonardo si purtroppo forse anche forse ha subito un infortunio speriamo che la prossima partita ci sarà una pedina fondamentale vuoi ringraziare qualcuno si ringrazio alla squadra che mi aiuta in questa operazione e qualche ragazza qualcuno la mia fidanzata non c'è ci vediamo la settimana prossima complimenti bravi